Carmine D'Angelo, bel risultato, importante questa prima di Coppa Italia, non tanto per il risultato ma soprattutto per l'andamento in campo, avete preso anche i complimenti della squadra avversaria, insomma un Termoli già in palla e pronto per la nuova stagione. Beh certo, una bella sgambatura, una bella partita, i ragazzi si sono mossi bene tecnicamente, con molta lucidità, mi è piaciuto sia il primo, forse meno il secondo tempo ma questo voluto un gioco più retroattivo proposto dal mister. Diciamo che avete rispettato gli avversari. Indubbiamente, soprattutto lo sport è fatto di lealtà, di cordialità e noi comunque ce la mettiamo tutta per fare questo. Una bella cosa, giornata di sport, giornata allegra e spero che sia sempre così, tutte le partite dovranno essere sempre così. Certo, forse pretendo troppo, non sempre in questi risultati, però nello stile calcistico e nello stile della socializzazione, della lealtà sportiva è bello vivere queste giornate in questa maniera. Come società avete privilegiato sempre il discorso locale e molisano, la scelta con il allenatore è caduta su Franco Longo, allenatore molisano. Insomma, prosegui su quel discorso che è avviato ormai da sempre, che tra l'altro è nella tua indole quella di privilegiare il calcio della nostra regione. È da tempo che Franco Longo, mister Franco Longo, voleva essere partecipi con me, fare un'avventura con me in questo campionato. Veramente ne sono fiero, ne sono soddisfatto, tutta la società ha voluto questa magnificenza, questo riconoscimento con il mister Longo. Spero che sia un'annata veramente lodevole, grazie anche al direttore Senese che ha saputo interpretare bene, con molta sagace e cabarbietà, questo invito. Spero che raggiungeremo sicuramente un obiettivo nella moderazione più possibile e pacifica possibile. Che ben venga queste cose, perché forse è la cosa più bella che il calcio può aspettarsi. Presidente, per chiudere, sono andando ancora al mercato, qualcosina ancora da aggiustare nella rosa. Senese sta lavorando, tu stai là in attesa di eventuali botti, soprattutto finali. Senese non si ferma mai, è un vulcano. Mi dicono che è il vulcanico presidente Carmetagio, ma c'è anche un vulcanico direttore sportivo. Non finisce mai forse di stupirci, non finisce mai di consigliarci i giocatori. Vabbè, se sposano una giusta causa, quella nostra, che ben vengano, voglio dire, perché rafforzano ancora di più l'endourage calcistico, rafforzano ancora di più la nostra famiglia e quindi sempre con moderazione, nel limite del possibile, è bello unire ancora di più le forze e questa è una bella cosa per tutti.